Dopo l'apertura dell'unica offerta da parte della società milanese F2I per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza della Sogeal, secondo il sindaco di Alghero Mario Bruno, ora davvero non ci sono più scuse. Lavoriamo tutti insieme la ripresa del traffico nello scalo algherese e al ripristino dei voli low cost, a cominciare dalla definizione della trattativa commerciale con Ryanair, come annunciato nell'ultimo incontro col ministro del Rio. Il fatto che sia stata presentata almeno un'offerta per l'acquisto delle quote di maggioranza dell'aeroporto ad Alghero è davvero un'ottima notizia, scrive su Facebook il senatore del PD Silvio Lai. F2I, continua Lai, è un fondo partecipato dalla Cassa Depositi e Prestiti e da investitori istituzionali, specializzato negli investimenti infrastrutturali, compresi gli aeroporti, ed è in grado di razionalizzare l'attività e rilanciarla con politiche verso le compagnie low cost in tempi brevi. Per Marco Ted, esponente di Forza Italia, si tratta invece di una vendita al buio e di cui probabilmente non conosceremo mai l'offerta tecnica, e cioè il progetto di gestione e di sviluppo aeroportuale della F2I. Una cessione illegittima, sia sulla base del decreto Madia che in relazione alla normativa pregressa, un vero e proprio pastrocchio. Il vice capogruppo di Forza Italia conclude con un appello. Cercasi disperatamente una giunta regionale che faccia gli interessi dei sardi e non di quelli degli amici degli amici.